E alla scala le prove continuano, chi arriva, chi ha terminato, nelle immediate vicinanze del palcoscenico possiamo assistere a questo incontro tra due ugole d'oro. Sono di scena, oh pardon, ecco Maria Meneghini Callas e Giulietta Simionato, sono appena tornate entrambe dall'America, entrambe erano nel Texas, a Dallas negli stessi giorni. E là non si erano incontrate. Ah ah ah, oh Malia come stai? Ciao Giulia, ciao Alberto! Senti il colmo, noi siamo stati ad Dallas ma non ci siamo neanche visti. Ma carami, all'amicizia sta in quel tuo giù sotto i capelli nel lavoro e io te la faccio a fare. Ma sai ti dirò che il mio inglese è talmente perfetto che io al tuo albergo chiedevo, aspettavo la comunicazione e non me la davano. No, no davvero, non ho saputo mai niente. Però ho avuto le tue rose in camerino con il saluto di Battista. No, no due, no ti prego, il mio non l'hai avuto. Beh no, il tuo. Ai, qui c'è stato qualcosa, t'ho scritto io un biglietto e poi lui ha voluto scrivere su un altro. No, ho trovato un pezzetto di carta, ho trovato su Battista, allora ti ho ringraziato per il pensiero e io mi sono decisa l'ultimo momento a mandarti questo messaggio, almeno a dire, non so, almeno in bocca al lupo. No, comunque mi hai fatto piacere perché era sottinteso, no? No davvero, giuro, ti avevo scritto. Però, poi lui ci ha voluto mettere la mano. Però il frangolino mi ha detto, io ho sentito Maria che dicevano, questi datele alla Giulia. Tu mi chiami Giulia. Giulia. Chi sa poi per chi. Oh Giulia. Oh Giulia. Ciao Stella, vado perché vado a riposare un momento e cambiarmi, poi ritorno per la prova. Vado a riposare un momento e cambiare un momento e cambiare un momento e cambiare un momento.